Questa mattina, quando mi sono svegliato, per la verità, ieri mattina, non questa mattina, ieri mattina mi sono svegliato e io ho l'iPad, l'iPad sarebbe quel aggeggio tipo computer sul quale si leggono i giornali e allora leggo quello che è stato il fenomeno Vendola. A dire la verità, sono rimasto molto male, ho avuto stranamente un rifiuto, non saprei dirvi, un rifiuto naturale, perché mi è sembrata una cosa, non so, inaccettabile, qualcosa che non andava affatto, qualcosa come gli ambientalisti, come i verdi, che quando abbattono una pianta si indignano, che c'è l'ambiente che viene rovinato e hanno il rifiuto per queste cose, io ho avuto un rifiuto. e ho pensato a Darwin e ho pensato alla stampa, ma era proprio necessario dare così in evidenza il fatto che questo Vendola insieme al suo compagno avessero avuto questo figlio? E la cosa che mi ha indignato di più è il pensiero che si sia preso un utero in affitto. Ma voi direte, è una donna che si è prestata, niente di male. No, 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 no. La cosa va analizzata più profondamente. Allora, pensiamo a questa donna indonesiana, la quale mette a disposizione il proprio utero, nel quale veniamo a mettere una cosa che è stata fatta in laboratorio, lo spermatozoo del compagno del Vendola, non del Vendola, perché ne massavano i ciotto, si vede, allora hanno preso quello del più giovane e hanno preso di questo suo compagno. L'ovulo, non si sa bene come sia l'ovulo, non si sa se è un ovulo di quella signora che ha prestato l'utero o se è l'ovulo preso da una banca, chiamiamola banca dati. Bene, questa donna ha questa inseminazione. Allora, l'uovo fecondato viene messo nell'utero, ma mi sono chiesto, il sangue che viene attraverso la famosa placenta a nutrire questo bambino, è il sangue di Vendola e del suo compagno o è il sangue di questa indonesiana che ha dato in affitto. E questo mi ha impressionato più di tutto, cioè il pensiero che questo bambino sia cresciuto nel ventre di questa donna e che questa donna abbia dato il suo sangue a questo bambino e che questo bambino sia cresciuto nel ventre con l'alimentazione di quella madre, non degli altri due, mi ha lasciato profondamente impressionato. Cosa volete che vi dica? E allora mi sono domandato quanti anni ho, mi sono chiesto se sono sufficientemente accettabile, se è questa mia mentalità retrograda, ma non è stato quello, è stato un rifiuto naturale, cioè mi è sembrato un qualche cosa che non funzionava. E allora io ho un'amica che ha la mania dell'energia, cioè quando si muore l'energia, tutto è energia positiva, negativa, è la farmacista di Monclassico, la Tomasi, la quale... Allora mi sono chiesto, ma non sarà che questo sangue che va a far crescere questo bambino porta anche una carica energetica della madre che lo mette al mondo? E quando questo bambino esce dall'utero della madre, non è che esce con un pacchetto anche energetico che si chiama madre indonesiana? E poi mi sono chiesto un'altra cosa, mi sono chiesto ma quando questo bambino sarà adulto, sarà grande, porrà delle domande? Allora la domanda potrà andare bene perché l'han preso in affitto, lo spermatozoo è quello di uno dei due. E l'ovulo? E l'ovulo di chi è? Punto di domanda. E che storia ha quell'ovulo? E che cosa c'è dietro quell'ovulo? Ma è tutto materia o ci sarà anche qualche cosa che è al di là della materia? Che potrebbe essere energia, che potrebbe essere spiritualità, un fatto metafisico, al di fuori di quella che è la materialità. E allora sono rimasto veramente male, sono rimasto male perché è una cosa contro... E poi la cosa che mi ha dato fastidio, e quella non è naturale, è che questi signori comunisti, Vendola e il suo compagno, che parlano di uguaglianza, degli operai e che più ne ha più ne metta, io farei una domanda, ma un operaio che prende mille euro al mese è in grado di poter andare in California, pagarsi un'indonesiana e far fare un figlio se lui e sua moglie non riescono ad avere figli? Ma non è una forma snobistica? È una cosa... Cioè essere di sinistra per quelle persone lì è una moda, perché non sono di sinistra. Queste cose qui vengono fatte da quelli che fanno snob, dai radicali chic, mi viene in mente, quando io ero ragazzo, che quelli che giocavano a tennis erano pochi, per la verità, perché era uno sport riservato a pochi, quelli che andavano a vela, idem, con patate, e si davano l'aria, perché diceva, sa, io gioco a tennis, ah, ma se, eh, io vado in barca a vela, vado col Freydeutschmann, che era una barca particolare, mi sa, un po' come quelli di oggi, si, gioco a golf, noi diciamo golf, ma io gioco a golf, o quelli che giocavano a bridge, giocavano a bridge. Oggi per una certa cateria di persone ricche, essere di sinistra, è insomma, è diverso che essere un liberale all'Einaudi, è una roba, sì, come lo speziale di Arco, che è liberale, è una roba molto più meschina, mentre essere di sinistra da ricchi un'altra cosa. Allora ho ciappato la Ida, la Gina, l'Ada e la Pia, per la strada, e gli ho domandato, cosa pensavo gli altri di questa roba? Sapete cosa mi hanno risposto? Che tutti i matti fai i suatti, e li ha continuato a scordare la testa. Grazie.